Visita la vetrina di TeleCountry News Nuovo sindaco di Gensano, Flavio Gabarini del Movimento Civico Città Futura che ha riunito diverse liste a Gensano Beh, un commento a caldo È stata una vittoria sofferta Emilio Cianfonelli, vittoria Vittoria anche se per pochissimi voti Beh, è una bellissima vittoria Merito totalmente della squadra Pierluigi Fortini si partiva da un 55% a favore dell'opposizione se lo vogliamo definire così e invece per un pugno di voti non ci si è fatta Un commento? Sì, poi analizzeremo più nel dettaglio anche i dati per capire bene cosa è successo Sì, poi analizzeremo più nel dettaglio anche i dati